Secondo me abbiamo battuto Golia perché hanno un ingaggio nettamente superiore al nostro. Io volevo ringraziare tutti i giocatori che hanno messo il cuore oltre l'ostacolo e hanno fatto sì che questo sogno poteva diventare realtà. Il coach Miricic che in questi tre giorni, quattro giorni li ha catechizzati per far sì di poter scrivere la storia della nostra città. E poi di Uori e Pedro, e Pedro era una settimana che mi tranquillizzava dicendo che eravamo pronti per questo traguardo e che ce la saremmo giocati e che avremmo fatto bella figura e che potevamo scrivere questa storia. Io sono emozionato come lo ero ieri nella semifinale e ho sofferto tanto perché alla fine sono stati sei anni duri fino ad oggi e oggi abbiamo raccolto qualcosa. Siamo partiti con tutti che dicevano che fallivamo dopo un mese, due mesi come tutte le altre società. Invece siamo qui, siamo vivi e abbiamo portato Napoli di nuovo dove stava nel 2006.